La terza questione che io voglio toccare è il riconoscimento dello Stato della Palestina. Come voi sapete è in discussione in questa settimana, in votazione domani, una risoluzione che riguarda la creazione di due Stati che possano vivere in sicurezza e nel rispetto reciproco. Dentro questo processo c'è anche il riconoscimento dello Stato della Palestina. Noi siamo amici degli israeliani e amici dei palestinesi. Vogliamo che il popolo israeliano viva in sicurezza e vogliamo che il popolo palestinese abbia finalmente una patria riconosciuta. Abbiamo lavorato ad un compromesso, ad un compromesso il più largo possibile. Abbiamo proposto una formulazione che secondo noi è una formulazione accettabile. La formulazione è la seguente. Noi sosteniamo in principio il riconoscimento dello Stato palestinese e la soluzione dei due Stati e crediamo che ciò deve essere fatto andando mano nella mano con lo sviluppo dei colloqui di pace che deve essere portato avanti.